Presidente Grandicelli, è in moto ormai da tempo la macchina organizzativa della Proloco, si riparte dai tesseramenti per sostenere gli eventi estivi non solo? Sì, infatti siamo pronti ormai da qualche giorno, anzi direi quasi da più di un mesetto abbondante per organizzare questa giornata che faremo una domenica pranzo, che peraltro è la prima volta dopo diversi anni che riproponiamo il pranzo della Proloco che verrà fatto domenica 14, l'orario indicativo sarà alle ore 13 in quanto approfitteremo sia per vederci con tutte le persone che vogliono sostenere la Proloco, ma allo stesso tempo inaugureremo la stagione del tesseramento, anche se in realtà il tesseramento è già operativo da un pochettino perché già siamo, chiaramente le tessere le abbiamo già da diverso tempo, però volevamo appunto dare un giorno iniziale da dove iniziare appunto questo tesseramento e il giorno appunto sarà quello del 14 di maggio. Dove si svolgerà? Chiaramente la svolgeremo dove abbiamo la sede, praticamente nella sala della cooperativa Tre Ponti, il costo è per quanto riguarda pranzo e tesseramento di 15 euro, ovvero 5 euro è il costo della tessera, chi viene avrà un supplemento di 10 euro che praticamente sarà il costo vivo poi del pranzo che andremo poi a fare domenica. Per l'anno in corso invece la Proloco conferma tutti i suoi eventi? Sì, no, no, gli eventi sono tutti quanti confermati, quindi la Fano dei Ceseri ci sarà dal 12 al 16 di luglio, mentre Ingeperfan sarà il 10 di agosto, quindi anche per Ingeperfan rimarrà lo stesso giorno che abbiamo fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso era l'11 di agosto che era un giovedì, quest'anno riproporremo di nuovo il giovedì, perché abbiamo visto che è un giorno che piace molto ai fanesi e anche ai turisti che chiaramente partecipano all'evento. Faccio una premessa, nel caso di pioggia, per quello che riguarda Ingeperfan, si farà il giorno successivo, quindi il venerdì 11. Grazie. 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 Grazie.